Chi stas nella cielo, santigata estu via nome, benu via regno, farigiu via moro, chiede la cielo, te lancan sulla terra. Chissà che faccia fatto Dio quando si è sentito arrivare un Padre nostro così. Padre mio, chi è che mi chiama così? Padre mio, padre mio, padre mio, padre mio, padre mio, non so se con Dio si è andata proprio così, non credo, ma se ha fatto una faccia non deve essere stata molto diversa da quella che hanno fatto a me tutti quelli a cui ho parlato di esperanto. Sì perché padronia chi resta sempre al cielo è esperanto, la lingua artificiale per il carattacolino nel 1887 dall'Azio Lombizzato. Ocurista, russo-bolanco, ebreo. Un uomo che pensò un'utopia. Un uomo che senza veder la vita, un'umanità diversa. Un uomo con un sogno, una visione concreta da realizzare. Un uomo che è in meggi, un uomo che è allievo ed rovinio, un uomo che per tutta la vita si è fatto un amico. E se fossimo tutti, tutti fratelli? Inter popoli, l'amuro in detruos. Tra i popoli abbatteremo un uomo. Diceva così il dottore. Oggi, se parlate a qualcuno di estratto, vedrete comparegno sul bordo un'espressione di smarrimento, magari con un piccolo sorriso. Come se ricordassero? Un vecchio amico sperduto nei ricordi. O magari non si sa più nulla, se non magari che non inizia la pasta più tanto bene. Mi speranto? Ah, eh, speranto, eh, speranto, speranto, speranto. Un giorno sull'altro si trovano una signora, una conoscente, un'atrice, che a te la vede io in mano una grammatica speranta, mi dice Ah, senti, ma non vuoi vocabolare italiano speranto, speranto italiano? E sì, se ci ho da tanto tempo a casa, aveva rivelato tanti anni fa un mio amico regista. Sì, un regista esperantista. Eh, lo vuoi? Te lo regalano. Grazie, ma che mi passa a prendere un giorno di questi che mi ti regalano? Sì, grazie. Poi lei, per la nota raffermata, mi si fa più vicino, una mezza voce mi dice, senti, ma secondo te, quante possibilità ha l'esperanto oggi? Non so, se è l'unico in film che ho avuto di nuova, forse. Eh, ciao! Il mio amico Jerry, invece, l'ho conto di sorpresa, una sera di settembre, mentre regava la catena della sua destra. Ho speranto. Ah sì, perché non se ne è più parlato tanto. Project, non che la rima, ho speranto, non se ne è più parlato tanto. No, intendi global, non global, new global, english, spanglish, globish, oriente contro occidente, occidente contro oriente, euro, eurabia, europa unita, l'esperanto non se ne è più parlato tanto. Ma immaginiamo di essere in una stanza, una stanza con le pareti pieni di scaffali. Su ognuno di questi scaffali ci sono tanti impasmi di scappo. A ognuno di questi impasmi corrisponde una lingua parlata nel mondo. Sono tanti, centinaia, migliaia, turco, poracco, lituano, aromeno, francese, svedese, arabo, urdu, indi. Ma indi? E sarà che bello saper fare i disfari con facilità. Ciascuno di questi passi, eh, farvi anche bene, scientificamente provato, rinforzi i miei olori. Eh, ma troppo da passarci pomeriggi interi a pancia sotto, eh, non ci va neanche tanto. E poi, e poi non c'è tempo, anche perché poi davanti a noi, su un tavolino, già vedete pronto, c'è un altro puzzle, un puzzle che abbiamo imparato a fare da piccoli per miracolo, perché poi di miracolo si tratta. E adesso facciamo così, in continuazione, senza neanche farci cazzo. E' il puzzle della nostra lingua madre, la nostra cara amata lingua madre, e quelli che nessuno non c'è. Ok, ma, nella stessa stanza, in un uccolino, un po' impolverata, c'è una piccola scatola verde, e la scatola dell'esperanto. Dicono che per fare questa scatola, questo puzzle, non ci voglia almeno tempo, eh, dicono che in questa scatola, in questo puzzle, ci siano meno pezzi, è più facile da capire assieme. Dicono che una volta che si è imparata a fare questo puzzle, diventi poi un po' più facile fare uno di tutti gli altri puzzle. Dicono che questa scatola, questo puzzle, sia di tutti, ma non appartenga a nessuno. Ma, un momento. Meno pezzi, stessa possibilità di vedere e comparire qualcosa di bello, di ottimo, di sensato come possibile. Per comprendere tutto ciò, signore e signori, è necessario conoscere i cinque fondamenti della comunicazione transnazionale, le cinque colonne portanti su cui si basa questa robita costituzione linguistica, le cinque, le cinque, le cinque vocali. A, E, I, O, U. Perché risperassero tutti i nomi comuni, la padaria, specchio, armario, televisore, stanza, finiscono sempre tutti per O. Mentre tutti gli effettivi, bello, basso, piccolo, sporco, pulito, e no, finiscono sempre tutti per A. Dunque, sia anche stata una bella, ma anche stata una bella tago. I verbi come funzionano? Semplice. Se io indico l'azione che si svolge al presente, il verbo finisce sempre in AS, indipendentemente dal nome della persona. Io, tu, voi, noi, sempre AS. MI AMAS, VI AMAS, NI AMAS. E se invece l'indicolazione che si svolge al passato, il verbo finisce sempre in IS, indipendentemente dal nome della persona. Io, tu, voi, sempre IS. MI AMAS, VI AMAS, NI AMAS. E il futuro OS. MI AMOS, VI AMOS, NI AMOS. E se poi invece in sala c'è qualcuno che piace comandare, per comandare c'è l'imperativo. E per l'imperativo c'è la U. Parola U. Mangio. Trinco. La U. Ma non sono solo la C, delle Speranze. La A, di P, O, U. Ma il resto non è molto diverso. No. I pezzi sono di meno e più facili da mettere assieme. Ma chi non ha messa che sta a scatare? Che è stato? È stato lui. L'articolista di Piafstock, l'inventore lui. Una lingua però non si inventa. Una lingua che sia artificiale non si può inventare. Non è niente come un seme che si getta, è diventata una piantina fatta crescere e curata con amore da chi quel seme aveva gettato e poi da altre persone, sempre più persone, fino a che la pianta cresce, 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 fino a sopravvivere a chi quel seme aveva gettato, fino a diventare una pianta sempre più alta, sempre più grande, una pianta enorme, una pianta secolare. Una pianta così, esposta all'abbraccio di un uomo, o la sua totale, completa, eterna, di differenza. Una pianta così, con delle radici ramificate, profonde, ampie. 1876, Impero Russo, Polonia, Varsalvo, Lanzar. Lanzar è un ragazzo di quasi 17 anni, mi sono cresciuti sul colto un paio di perfetti, niente, ma si sono anche volte su quel paio di occhiali senza vincolo che si sa di voglia di chiarire, spesso sono un po' che devo di vista, ma anche il vero Lanzar non è devo di solo di vista, no? come nel suo lettino nella stanza che divide con due fratelli e due sorelle, in quel lettino lì, Lyser si è già fatto tre proghi, tre, a scuola Lyser va bene, si studia con facilità, entusiasmo, obbedizione, per sua madre viva, con cinque figli da sua madre, Lyser è una preoccupazione in meno, se non fosse per quella faccia, ah, è sempre così serio, pensieroso, si, suo padre è il professor Marco Zamo, è un docente di lingua tedesca e geografia, qualche anno prima ha preso tutti e caricato tutti sul treno vero Barsaglia, che a Pianistoc, la piccola Pianistoc, che non ci sentiva proprio più stare, e poi bisogna dire che il professor Marco Zamo, una conoscenza di sua moglie viva, più che nel grande padre di lassù, credeva nel piccolo padre di qua giù, vale a dire, il grande Zamo, Alessandro II, lo Zamo buono, quello che ha regalato la libertà, ai servi della clema, ai contadini, senza neanche darmi un minuscolo pezzo di terra, che non tanti indicoli adattavano un po' più molto, ma l'importante è che, per il professor Marco Zamo, il professor Marco Zamo, il professor Marco Zamo, infatti, a Barsavia, aveva riservato già un importante carico di prestigio, Zamo, membro ufficiale, dell'ufficio interiore, per la censura, ci sa come sarà la mia moglie di rischio, aveva pensato il professor Marco Zamo su quel treno per Barsavia, mentre l'azio su quel treno per Barsavia aveva pensato a quanto grande doveva essere questa Barsavia, se ci stava tutta quella gente picciata negli scompartimenti, aveva pensato anche a tutto quello che aveva potuto lasciare a Piaisto, la sua nata a Piaisto, i suoi amici, i suoi compagni, la sua scuola, i suoi cani, lo zio di Osef, per il canale, per il canale finesse, aveva fatto una ragione che con il zio di Osef, quando sarebbe stato venisse, ma per lo zio di Osef, no, e lo zio di Osef, l'azio su quel treno per Barsavia, perché non riusciva a darsi pace. Lo zio di Osef, davvero del padre, ancora più conto del padre, linguista di ottima fama, uomo grande, grosso, sempre di buon umore, con due mani enormi, che grazie a ogni inerenza ci si perdeva dentro. Lo zio di Osef viveva da solo, in una piccola casa con gli enti, l'azio stita piccolo, quasi di pomeriggio, non andava a trovare, lo zio non faceva sedere, gli offriva qualcosa da mangiare, da bere, e poi due cominciavano a parlare di tutto. L'azio di Osef parlava di tutto, affrontava argomenti che a casa con sua madre, con suo padre non aveva mai affrontato, chiedeva cose che a sua madre e a suo padre non avrebbe mai chiesto. Un giorno L'azio, dopo aver assistito di persona alla circoncisione del suo ultimo fratellino, il padre, l'ultimo nato, era forse subito, la zio di Osef, perché di Dio se secondo lui davvero Dio voleva tutto per sangue, tutte quelle grighe disperate di un bambino piccolo, piccolissimo, no, L'azio, no, L'azio, io credo che Dio non voglia il sangue di nessuno, L'azio, ma come posso spiegarti, L'azio, come posso spiegarti? Ecco, L'azio, io credo che gli uomini si diano, come dire, da fare, si diano molto da fare per cercare di entrare nelle sue grazie, nelle grazie di Dio, coprebi? E poi c'erano le storie della Bibbia, le stesse identiche storie che L'azio ogni martedì sera doveva leggere a casa con il padre nel suo studio, le stesse identiche storie a casa di zio di Osef diventavano altre storie, si trasformavano, acquistavano colori, sapori, tutti quei nomi complicati diventavano familiari, il comportamento dei vari personaggi diventava oggetto di lunghi, appassionati, discussioni tra L'azio e lo zio di Osef, Caino, Caino, perché Caino ha ammazzato Adele? E poi perché ha detto a Dio di non sapere nulla dopo che l'aveva appena ucciso? Ma che faccia il fatto davanti a Dio quando gli ha risposto così? E Abramo? Zio, da breve Abramo voleva uccidere i suoi figli occhi, sa? Davvero Abramo parlava con Dio, ma come faceva? E Mosè, e gli uomini che seguono Mosè nel deserto, perché a tutto punto si sono messi ad adorare e anche un vitello d'oro? E Danila? Che significa la storia di Danilo? Non la capisco proprio, perché Danila ha tradito Sansone? Chi era Sansone? Soprattutto chi erano? I misteri. E la torre di Babele? Zio, perché io la torre di Babele ai uomini non avevo mai perdonato? La prima volta che il laser si era trovato di fronte alla torre di Babele, era sicuro di quella finissera a casa con il padre dello studio. Leggiamo, leiser, leggiamo? Dunque, stasera leggiamo Genesi, capitolo 11, la torre di Babele. Leggi, leiser, leggi, leggi. Leggi, leiser, all'arretto. Tutta la terra un tempo aveva una sola lingua e si usavano le stesse parole. Gli uomini, vivrando da Oriente, erano capitati nella cadura di Sennaa e lì si stabilirono. Poi si dissero l'un altro, venite, venite, prepariamo dei mattoni e cuociamogli al fuoco. E così gli uomini, anziché delle pietre, usarono i mattoni. Poi si dissero l'un altro, venite, 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 costruiamo una città ora, una torre alta, la cui sovità tocca il cielo, così noi non ci risperderemo su tutta la terra e ci faremo un nome. Ma il Signore vide quanto gli uomini stanno facendo e pensò, ecco, i figli di Adalora sono un solo popolo, hanno un solo linguaggio, e quanto loro vorranno fare, gli sarà proprio possibile farlo. No! Scendiamo e confondiamo per sempre i loro linguaggi, in modo che essi non si intendano più. Cioè il Signore è sceso e sparse l'uomo in tutta la faccia della terra, e gli uomini gestarono di costruire quella città e quella torre che viene chiamata Babbele, da Babi, confusione, perché da lì che il Signore confuse per sempre il linguaggio degli uomini. Bene, grazie, vedo bene, ora mi raccomando l'Aizer, vai a letto, eh? Ah, l'Aizer, mi raccomando, spegni la lampada, subito. E l'Aizer per la sera è andato a letto, si aspetto la lampada, subito. Ha fatto un sogno, un incubo. Un incubo che come tutti gli incubi, a lì si sembrava anche un bel sogno, perché l'Aizer per la sera, la notte, ha sognato una miria degli uomini, di donne, dall'aspetto diverso, dal colore della pepe diverso, vive tutti insieme in una grande torre, alta e imponente. Vivevano tutti insieme in questa torre, parlavano tutti quanti una lingua, un'unica lingua, che non sembrava neanche una lingua, per quanto era luce, subiva ascoltarla. Sembrava che quegli uomini, quelle donne, invece che parlare, cantassero. Poi all'intervisto, in quel sogno, calava un'immenso oscurità che riempiva ogni più nascosto angolo di quella torre, qualcuno in quel buio, cercava di arrivare in cima, già arrivava, e giunto lì sopra, vedeva una nube grigia, di cui non si vedeva all'inizio e all'inizio e all'inizio. La nube, come un quanto, abbringeva la torre, la stringeva, la stringeva, fino a sbriciurare, la prima farà diventare polvere. Intanto nel sogno si crozzavano a subire anche delle grida, grida disperate, differenti, una dall'altra, migliaia di grida differenti, una dall'altra, polvere e grida, polvere e grida. Lazzaro si ricordava del sogno e finiva così. Il giorno dopo era tornato di nascosto nello studio del parco per cercare nuove notizie sulla torre di Pabella. Era trovato molte dissertazioni di gusti studiosi. L'autore di Pabella è il simbolo dell'arroganza umana. Era trovato anche molte illustrazioni. Sì, perché la torre di Pabella era ispirata da tanti artisti. C'è chi aveva ritratta a forma di spirale, di piranidale, di sperga, di cubica. Che aveva immaginato una montagna di uomini, incastrati, più sopra l'altro, che cercavano di mandare tra di loro senza però riuscire a capirsi. Ma non è vero? Non è vero perché i uomini che stavano costruendo la torre si capivano bellissimo. E proprio per questo io li avevo cominciato a punire, a castigare. Ma perché? Perché il Signore aveva voluto cancellare per sempre l'autorizzonte umano questa possibilità di armonia. E perché gli uomini avevano cominciato quella frase? Così noi non ci riscalderemo su tutta la terra e ci faremo un nome. Che cos'era questo nome? E che cos'era quella lingua parlata un tempo da tutti gli uomini con le stesse identiche parole? Quali erano queste parole? Giorgio, se ti prego, l'ottore di Vabbè, non cercando di studiare, non ci scopisco di niente. Giorgio, se ti prego, l'ottore di Vabbè, se ti prego, l'ottore di Vabbè. L'Aizer, calma. L'Aizer, Mi sembra che noi due che stasera dovevamo parlare d'altro. Dovevamo parlare di Giorgio. Sai che ti dico, L'Aizer? Lo stiamo a farlo aspettare. Giorgio ha pazienza. Coraggio! Sienti, parliamo di Vabbè. E così, parlare con l'attore di Vabbè, ma non solo quella volta, ma tante altre volte. Zio, ma perché Dio ha avuto che gli uomini non si incomprendessero più l'uno con l'altro? Ma è davvero questo quello che ha avuto? E così, L'Aizer, poco prima di partire per Barsada, non più bambino, ma già cazzo, si presenta per lo Zio di uno secolo in manoscritto, un uomo minumoso di oltre 200 pagine, intitolato La torre di Vabbè, da un ramo unirico in cinque atti. E sì, perché per un'altra, quella storia è stata incomprensibile, e di oltre 200 pagine del suo dramma, e di oltre 200 pagine, e di oltre 200 pagine, la tragica recenda. Allora, Sio, che cosa dici? Ma L'Aizer, che cosa dico? Un bel lavoro, si, che guardava un buon genio, però L'Aizer, sai che ti dico? Continua a pensare questa storia. Mm? Sì, L'Aizer, continua a pensare. Continua. Continua. Eh, L'Aizer va continuare. Anzi, Aveva cominciato che aveva cominciato a pensare sul serio, a una lingua comune a tutti gli uomini, una lingua accessibile a tutti gli uomini, una lingua che andasse oltre le differenze accumulate nei secoli di storia e cercasse soprattutto le assonanze e su queste si basasse. Lanzer aveva cominciato, complice lo zio Joseph, a elaborare il suo progetto di una lingua universale. Ma come si inventa una lingua se una lingua non si inventa? Come non so, uno si mette lì, di buona volontà, un pezzo qui, un pezzo qui, un pezzo qui, un pezzo qui, signore, signore, inventate il parafulmine! No, non funziona così. Una lingua che si conosce naturalmente, che è un processo naturale, che richiede anni, secoli, di inverni, forse, da una lingua, una lingua come una roccia scolpita lentamente dalle acque. Ma dove fa partire la prima roccia? Dunque, pensava Lanzer, pensava Lanzer, si può poter prendere una bella lingua già esistente, no? E' una lingua classica, e la fine, un passato glorioso di lingua trans nazionale. Prendiamo, un passato che lo semplifichiamo, togliamo qualche coniugazione, terminazione, 5. Gerecini, via, deponenti, via, anticipi, via, supini, via, 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 via! Almeno non così. Una lingua tutta incertata, una pastora che ha un corso, le loro come, no, no, no. Allora, meglio una lingua moderna, si prendiamo una lingua moderna e la razionalizziamo. Sì! Creiamo un linguaggio essenziale che serva alla vita quotidiana, ecco. Per esempio, tutti questi sinonimi. Che cosa servono, tutti questi significati? Una parola, un significato, un significato, una parola. Ma così sarebbe come aver chiesto amicangelo di dipingere una cappella sestina con un'unica indefinita pennellata di grigli. Non saprà che forse la ruzione non ci ha trovata il gusto di buono come una di me. Ma sì, il sorridio è in confronto a grandi pensatori, come quelli del Secento, per esempio. Com'è? Nei cartelli? Nei! Che hanno cominciato a lavorare il loro pensiero, il loro progetto, è una lingua perfetta, autotica, basata su categorie del pensiero, su associazioni filosofiche. Beh, è una lingua perpottica. Potte ma buone, ma sempre buone. Allora, la migliore discussione è il francese. Il francese, come si chiama? Siudre. Il francese, Jean-François Siudre, che qualche anno prima, nel 1840, ha inventato il Sol Re Sol, la lingua musicale. La migliore di sillaba corrisponde una volta musicale. Sol Re Sol, Mi Fa La, Do Re Mi, Sol Fa Mi, Re Mi Fa, Sol Fa Re, l'infetto numero di combinazioni possibile, con l'infetto numero di regola, l'infetto numero di combinazioni possibile. No! Lei è lingua. Dovrà seguire seguenti e musiche fondamentali. Dovrà essere di facile apprendimento, semplice grammatica e semplice vocabolario. Dovrà essere capace di evolvere naturalmente. Dovrà essere capace di esprimere il saper umano in tutte e quante le sue sfumature. Dovrà essere capace di esprimere la prima voce. Questa ancora non è la chiara. Sio Joseph? Sio Joseph? Sio Joseph? Sio Joseph? Mi poni delle domande da far tremare le vene e borsi a generazioni di studiosi. Lager! Una lingua universale non basta, mi scrivi di una tua lettera. Anche cosa serve quando è una lingua universale? Quando in realtà lo studierebbe ricreare l'uomo dalle sue fondamenta, mi scrivi di una tua lettera. Lager! Per quanto concordi con te che l'uomo attuale sia sempre l'uomo homi di lupus di hozzi, e non la meno semplicità di Dio. Io non penso che si debba disperare di lui, Lager. Ma no, riflett Lager. Un Dio di un buon panno. Non ho declarato un uomo male. E per il male... Certo, adesso non sto a ripeterti qui la storia del paradiso terrestre. Anch'io credo la rete da quel racconto della Bibbia. Ma come te, Lager? Io invece credo alle scoperte in un pugnale della scienza. E allora, per questo motivo, caro Lager, ho deciso di inviare, insieme a questa mia ultima lettera, un libro che ha visto la luce lo stesso anno di cui tu sei nato. Ed è il naturalista inglese Charles Darwin. E quanto descritto in esso riguardo all'origine degli esseri viventi, beh, Lager è ormai interessante conosciuto come valido da tutti gli scienziati. Lager. Dio ha privato la vita elementare, non l'uomo. L'uomo, che è stato a un buio di millenni, dopo un'infinita serie, dal Talenti. Sta lentissimamente, Lager. Lentissimamente. Levando il capo verso il cielo. Obedendo a una forza che è presente in me, in te, in tutti, sotto tutti i cieli, Lager. Una forza che sta sotto la montagna di detriti delle vicende umane. Ecco, Lager, se tu non riesci a credere al Dio, quel diere, quel negativo dei racconti della Bibbia, allora vedi questa forza, che forza d'amore, che ci tira inevitabilmente un destino di vita. Ma vada bene, Lager, questa forza. Eh, bisogna alimentare. Senti. Ah, consiglio, Lager, bisogna rilasciarti. Nonostante, non so che tu sono abbastanza, come so che stai accendo. Esce di tanto! Vai a vedere com'è questa Varsavia. Visto in tenere altre persone. Capitare nel tuo cervello. Lager, ricordati. Che ogni singola persona, ogni più piccola cosa, ho regalato all'improvviso un barbume di verità, un lampo di ispirazione. Ti abbraccio. Sì. Allora, c'è il nostro periodo. Non sono mica un vecchio di 90 anni. Devo uscire e incontrare altre persone, ma prenderai al mio cervello e incontrare il cronato. Io esco! Esco! Lungo la strada, Lager si sforza di guardare in faccia le persone, di notare la forma degli edifici, di annirare la varietà delle piante, ma non trovi niente. L'acqua di ispirazione non dà comunicabilità? Niente. C'è solo un'area grimica, immobile. Fino a che non piove. Piove. Così il più viso sempre di più. Piove, 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 piove. L'ora lì è. Lì è stato un portone a ripararsi. Lager se ne sta lì, freddo lì sotto il portone a vedere la pioggia che allaga la strada, che bagna gli alberi. Se ne sta lì, si guarda intorno, a sinistra, a destra, a destra. Piove. 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 la medicina, scrive a sua madre, che gli scrive spesso a sua volta, dicendo di stare attento a mangiare, di copersi bene con quel gelo, di stare attento soprattutto alle suole delle scacchi, che non lasciano passare l'umidità. Ecco, sì, e Liza, mi raccomando, non pensare solo alla medicina, a me anche qualche signorina. Mamma, mamma, non ti preoccupare, non penso solo alla medicina, mangio, mi copro, sto attento alle suole delle scarpe, e non penso solo alla medicina, mamma, lo sa credo, eh? La letteratura rossa, per esempio, mamma, mi affascina sempre di più, sa? Grazie, era all'università, ma ho conosciuto alcuni giovani scrittori, sì, uno, tra loro, per organizzare la sua stessa facoltà di medicina, particolarmente bravo, ha già scritto dei raccontini divertenti, secondo Liza, si chiama Cecco, Anthony Cecco, il dottor Cecco, il dottor Zannoff, sono quasi coetane, il futuro dottor Cecco, sono una regione del futuro dottor Zannoff, il futuro dottor Cecco, il futuro dottor Zannoff, diventano amici, presto, fanno comunque passeggiate insieme con quei viali di Mosca e discutono, discutono. Il futuro dottor Zannoff parla al futuro dottor Zannoff di un'umanità che, secondo lui, da cento, i milioni di anni, potrebbe essere davvero felice, ma se valgassi verso più, per essere. Il futuro dottor Zannoff confida al futuro dottor Cecco e il suo progetto di una lingua che mette a tutti gli uomini uno stesso piano di un'autentica comprensione umana, fraterna. Il futuro dottor Cecco fa scorta per le notti che tu sei da qui. Poi tu si devono lasciare. Arrivano le vacanze, le prime, le prime da quando Rizer è a Mosca, eh? A casa, a Marzalla, per poco ma a casa. A casa Rizer ritorno al futuro e va lasciata. Suo padre, suo figlio, le sue sorelle. A dire il vero, sua madre, bimba, me lo perdetevi un attimo. Come sarebbe stato dedicato da un altro viso di nuovo. Suo padre, invece, il professor Marco Zannoff, se ne sta sempre chiuso a chiamare il suo studio, e allora è sentita quasi in ritardo. Poi, una mattina di luglio, il professor Marco Zannoff fu fuori città per questioni di lavoro. La chiave dello studio è consegnata a suo amore in Italia. Buongiorno, mamma. Buongiorno, mamma. Come potessi fare una chiave dello studio? Io vorrei un attimo controllare i tuoi capelli che ho lasciato in consiglia e la pazza in corno, mamma. Devo controllare tutte le cose e mi puoi dare pensare a una mamma. Mamma, se non posso. Ma perché non poi, mamma? Ah, non ti preoccupare, non ti posso. Questi miei cinque minuti, poi giudo. Non ti preoccupare, mamma. Devo controllare una consiglia che non ha una certa importanza. Fattare una felicitanza, non mi ti ha fatto. Non riesco a ricordarmi come ho risolto. Mamma, per favore, mi dai la chiave. No, mamma, se non posso. Tuo padre ha riuscito a tutto in questo inferno. Ah, tutto quello dell'ansia per sciogliere di fronte agli occhi. Di sua madre? Ah, con lo stesso pensiero come un certo mentalino a me. Cosa mi ha piaciato per primo nel canino? Il quaderno con i legittimi e quello di niente? La piccola grammatica e il piccolo ucchi. Vieni la volta, le mie notte insonni, tutto in fiamme e poi in cenere, no? Non è possibile nel salotto, nel canino, nel salotto in casa, no? No, no! Ma ho capito che non basta dirigere un vocabolario per inventare una lingua. Non basta scrivere due regole per inventare una lingua. Ma no, prima bisogna fare da voi come un'anima, come un'idea interna che la sorrega, che la faccia vivere, come un fuoco. Interno? Sì. Adesso ho capito che mi trovo di fronte a un passaggio, un barco, una sorta, una porta. Chi mi avessi messo in mano nel canino per aprire questa porta? Io parlo. Padre, io non vi ho mai detto niente per i quaderni che avete bruciato quella volta. So che quello che ho fatto, voi lo fate unicamente per il nostro meglio, no? Però, padre, ora io mi ritengo sciocco, liquido dalla promessa che avevo fatto, perché ormai mi sono laureato da poco, pochissimo. E ora, padre, io ora vi chiedo di lasciarmi fare quello che veramente io voglio fare. E vi chiedo di aiutare. Sì. Vi chiedo di aiutare. Ho bisogno anche del vostro aiuto. La risposta del professor Marcosano è un valore. Il silenzio. Caro Zilioso, mi sono maleato. Non ti immagino della mia felicità. Ma neanche lo strano sentimento da cui esso è come velata. Vedi, zio, io ora mi sento come se fossi giunto sul limite di un enorme alto piano. Da qui si vede uno sconfinato paesaggio bellissimo. Ma allo stesso tempo sento che se sono fascinato il muscolo passo in avanti, davanti a me. C'è il mio. Leiser! Ho scoperto una rosa. Devo dirti una cosa importante. La lingua universale si stessa già. Sì, Leiser! Il vola piucco, la lingua del mondo. L'ha inventato l'Evredo Maltich Lager, un bastone cattolico del Baden. Leiser, il vola trocca molto successo. Il vola piucco, il vola piucco, la lingua del mondo. Il vola piucco, la lingua del mondo. Il vola piucco, il vola piucco, la lingua del mondo. Ma sfido chiunque a parlarlo correttamente, zio. È una lingua totalmente incomprensibile. Tutte le parole finiscono in consonante. Sono tutte parole tronche. Tutti monosimili. A me si assomigliano tutti terribilmente tra di loro. Ascolta, ascolta, ascolta. Allora, Bab, Fab, Pap, Pap, Pap. Pep, Beb, Pep, Beb. Peep, Bib, Bib, Bib. Pop, 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 Pop. Non ce la faccio, sì. Farò una cosa buona in un grande slide che mi ha lasciata. Eh sì, perché, dipendendo di tutti i difetti dell'opera sua, io mi sono reso conto di tutti i difetti dell'opera mia. La mia lingua, che non chiamerò più universale, perché, a differenza del vola piucco, non vuole eliminare alcuna lingua esistente al mondo, la mia lingua internazionale andrà staificata. Sì, sì, sì. Ho già pensato a un sistema di vocale, zio. Per i verdi. Sì. Fa soltanto la gente ha mostrato interesse per una lingua complessa, diciamo, come vuole più. Poi sento che la mia lingua potrà finalmente nascere, riaffermarsi. Poi ti devo lasciare, zio. Devo studiare per gli esami di specializzazione. Sai, zio, la semplicizzazione ho scelto un po' più visti. Senza esistere, laser ha scelto un po' puristico. Laser era stato per quegli occhi anni, sui suoi occhi sin da piccolo che gli hanno fatto vedere il buco. O sarà stato perché davvero laser pensava che il dito degli occhi si nascondesse l'anima delle persone. E che quell'anima si potesse osservare, scudare, curare, se necessario. E laser non ha osservato tutti quegli occhi. I occhi sempre bassi, che nascondono sempre se stesso agli occhi. oppure gli occhi di piedi e proprio sguardo agli altri in offro diretto, aperto, senza venti, senza paura. Oppure gli occhi stanchi, iniettati di sangue, specchi di mille, piccole battaglie quotidiane, bambini tenaci, oppure gli occhi vingui, di bellutati, di bambini, di vecchi. Oppure forse sarà stato per gli occhi... di quella signorina. Forse sarà stato per gli occhi... di Clara. Stimatissima signorina Zilberling, volevo comunicare che ho superato il mio esame di specializzazione in oculistica. Inoltre, vorrei fare un azzardo nel dirle che a me che mi interrogarvano. Io pensavo solo ai suoi occhi. E che se mi suggerivano le risposte più... più... esatte. Stimatissima signorina Zilberling, che mi gli consigli così, i suoi occhi. Per la sua felicità, e un po' anche per la mia, di felicità. Per la felicità di Lazer, la signorina Clara Zilberling ricambia. E per la felicità di Lazer, che suo padre, signor Zilberling, ricco fabbricante di sapone, ricambia e sforza molto interessata all'occhietto linguistico di Lazer, tanto interessato da garantire la fospicola versione come sostegno per le future necessarie e inevitabili spese. Caro Reiser! Poi, in quei stessi giorni, arriva dall'America una notizia. L'American Philosophical Society, prestigiosa istruzione dettata allo sviluppo delle scienze delle arti, ha bandito un concorso internazionale per stabilire definitivamente, se sì o non sia necessaria, una lingua transnazionale. La scadenza del bando, due mesi. L'unico concorrente in gara attualmente, il Volapiuk, del reverendo Mantelicidade. Ora, non è più, ma se l'altro. Ora, non è più. I due mesi passano. L'Oraliter, finalmente, è in una tipografia, in attesa che gli veniva consigliata la sua opera. Gli ultimi giorni sono passati frenetici alla ricerca disperata di un censore che mettesse un timbolo sulla sua opera. e alla fine ragazza anche al suo padre. Quel censore è stato trovato e quel timbro è stato messo. E ora, finalmente, gli viene consegnata la sua creatura. Un libretto grigio, con sopra scritto Internazie a lingua, prefazione e manuale completo. Varsavia, 1887. Firmato Dottoro Esperanto. Così si era voluto filmare in Asia. Dottoro Esperanto. Il Dottore Espera. All'interno ci era scritto che l'autore rinunciava per sempre a qualsiasi diritto sulla sua opera che quella lingua è la comune proprietà di tutti. Se qua all'interno c'erano dei foglietti staccabili da rispedire all'editore, con sopra scritta la promessa di imparare presto l'eternanziamento del Dottoro Esperanto. E ora era scappato da perduto. E ora non restava che aspettare che succedesse qualcosa. Magari non so, che fosse qualcuno. E per l'asio non restava che aspettare che succedesse qualcosa. Magari non so, che fosse qualcuno. Anche nel suo primo studio turistico. Una stanza. Nel piccolo, nel grande, nel pari di vetriette con strumenti, libri, strumenti per misurare la vista, il tavolo, la sedia, la poltrona. Pazienti, no. Non se ne vedevano. Allora ragazzi stavano lì ad aspettare che succedesse qualcosa. Magari non so, che fosse qualcuno. Fino che un giorno, verso sera, all'interviso, è venuto un uomo più grosso, con dei bacconi. Prego. Prego. Secondo. Come dice? Una lista di controllo. Prego. Cominciamo subito. Prego. Allora mettiamo questi. Ecco. Allora io le dico, le chiedo anche, funziona così. Allora, dunque. Riesci a leggere qui? Che lettera è questa? Aspetta. Che lettera è questa? 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 Giù vi è stas la dottorio Esperanto? Siete voi il dottorio Esperanto? Gravucci. Era la prima volta che il Lai, si è cominciato con una moce umana sconosciuta la sua lingua, e una moce umana con tanto di baffi. Era la prima volta che il Lai, senza nemmeno pensarci, abbracciava forte uno sconosciuto. Clara! Ingra! Ingra! Clara! Ti presento? Clara! Aspetta! Ti spiego! Ti presento il signor? Il signor? Gravucci. L'ingegnere Antoni Gravucci. L'ingegnere Antoni Gravucci. L'ingegnere Antoni Gravucci era venuto da lontano, fino a Barsalio, con un remato solitario, per rendere omaggio di persone al dottorio Esperanto. L'ingegnere Antoni Gravucci era stato il primo, ma intanto l'editore arrivava con le tue promesse. Prima poi, un quesetto di più, promesse, 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 prometto di imparare il resto della internazionale del dottorio Esperanto. La lingua internazionale non mi piace, è facile, altro che vola più. Voglio far riconoscere dunque. P.S. Post- incom valutazione È disperato? È disperato? Gio, Gio Joseph, buona lettera dalla media, è il verdetto. Ascolta che dice. La proposta pervenuteci da dottor Zammoth di Varsalia ci appare la proposta più concreta, semplice e razionale. I principi su cui essa si fonda sono del tutto esatti. Zio, ho vinto, ho vinto io, la veningua, zio, io ho vinto, ho vinto, zio, che non è venuto sull'aria, non è la pure, ma faccio. Lo zio Gio Joseph, invece, quella lettera, ma non fece in tempo rispondere. Se non doveva prima, per sempre. Dopo che adesso se ne andavo allo zio Gio Joseph, l'azio non capiva che cos'è questo zio, un inizio e una fine, non capisco. E' tornata a Bialistro che l'azio, per il funerale di suo zio, e una se ne stava lì, in quel piccolo cimitero, è tornata da tante facce, un tempo tutte bandine, un tempo tutte amiche, erano tutte troppo uguali di una madre, troppo amiche. E' dovevano lasciato lì, da solo, davanti alla tromba dell'azio. Zio, questa aveva ragione il tuo fratello. Mio padre, quando nello studio, mi diceva sempre, Lizer, a questo mondo le belle idee restano sempre solo le belle idee, a questo mondo ci vogliono fatti, concreti sotto gli occhi di tutti. Anzi, non sono fatto concreto gli uomini sconosciuti, che si tracciano commossi nel mezzo di uno studio acquistico. Non sono fatto concreto anche per attestazioni di interesse, di partecipazione anche di grandi uomini, Zio, Tolstoi, si è impegnato a diffondere personalmente la nostra lingua, collabora già la nostra rivista, Tolstoi. Certo, Zio, sono fatto anche le sentenze, liquidatori, mi dice, occuparsi di un lingue universale e l'inglesia assoluta. Punto. Zio, ma io non sono così piotola, pensate che con l'esperanto gli uomini al mio viso diventino angeli. Ah no, io non so che anche l'esperanto si può dire gli uomini. Io c'io. Anche l'esperanto, perché no? L'esperanto è un fine. Non è un fine, è un mezzo. È un mezzo, è un mezzo. Per arrivare vicino alla torre, di tocco in cielo, forse. Ma per arrivare lassù. Zio, se vuoi non fare, concreto, è sotto i rocchi di te. Parigi, 1905, agosto, a vedere l'assù, laser ludwig zameno fra un puntino minuscolo, un puntino minuscolo insieme ad altri puntini minuscoli, ma lui, laser ludwig zameno, è ancora più puntino, è ancora più minuscolo. piccolo uomo con occhiali, chiesti indietro, e occhi in alto, il più in alto possibile, la terra, il più in alto possibile, e indietro, la nuova portentosa sfida umana, nel nome del progresso e dell'avvenire, la tua e il ferro. piccolo uomo con occhiali, chiesti indietro, ordinando il più in alto possibile, ai punti del nuovo secolo, il novecento, e per questo nuovo secolo che l'ingegnere Gustavo Eiffel ha voluto regalare al mondo questa meraviglia di ferro madrone, e le regalate del 1889, l'anno della grande esposizione universale, per cui Parigi e il mondo sono stati l'unica cosa, e adesso, quindici anni dopo, sotto la torre di grado del mondo, sotto gli stessi occhi dolci di quel mondo, c'era anche lui, laser ludwig zameno, e la sua creatura, il ristorante, ma di passaggio, di passaggio, non solo di passaggio, la destinazione umana, Bulò, sul merito, primo congresso universale di Sperante, quella cosa, per gli stati di Bulò, la gente parla una lingua, che lui non sente sua, e più nemmeno di quanto non la sente a sua l'altro, l'interlocutore, venuto un po' di salatole, sulla faccia di venire in municipio, c'è un grande stressione con sopra scritto Bologno sul mer, Bologno sul mer, è benvenuto agli sperantisti di tutto il mondo, la palla suona sul merciapiede, tutti aspettano che parli i lumi, ecco, eccolo, sta salendo sul podio, è lui, è lui, con i miei geni, è lui, è lui, è lui, vivu, 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 vivu la dottora Sperante, anno nuovo, città nuova, congresso nuovo, Trestra, crocopia, Washington, ambersa, Barcellona, Cambridge, e poi di nuovo a Parigi, il 1914, Deca, universale congresso dell'esperanto, l'esperantissimo, in deserta mondo, quell'anno, si ritrovano al mondo, un po' a lasta in Parigi, il più grande cinema del mondo, la più grande sala cinematografica del mondo, per far vivere questa storia, andava bene, un grande schermo bianco, da voler riempire con le tue immagini, più di ancora che quello schermo bianco si riempia d'altro, un grande schermo bianco, da voler riempire con il tuo sogno, più di ancora che quello schermo bianco si riempia d'altro, un grande schermo bianco, più di ancora che quello schermo bianco diventi nero, solo nero, nero di guerra, nero di morte, A vero, in novecento, stagliarsi contro il cielo, sotto forma di ferro marrone, quella volta l'azio, la quella non aveva vista lassù, non gliela sembraza di scuola in generale, e poi c'è, era solo l'aprì, il tuo nuovo secco, la sufficientemente atroce per chiudere per sempre i suoi occhi. Il 1217, aprile, la sperantissima della tutta onda, quell'anno si ritrovano a Varsali, ed un caro fune, il caro funebre di Milano, Ludic, Zappi, del Dottoro, Speranti. Stimati, signori e signori, oggi qui il sogno di millenni comincia a realizzarsi, oggi qui in questa piccola città della Tossa Francese, Moulin-sur-Mer, sono convenuti uomini e donne dalle più diverse parti del mondo, e per la prima volta che si incontrano non come mughi e sordi, ma come fratelli, si comprendono l'un l'altro, oggi qui non si incontrano lussi con polacchi, francesi con inglesi, ma uomini, ma uomini, oggi qui noi siamo per dimostrare al mondo, con fatti irrefutabili, ciò che il mondo finora non vuole vedere. A me, a me piace una canzone, si intitola Rumori di niente, comincia così, l'avevi increduto davvero, che abbiamo parlato speranto, l'avevi increduto davvero, l'avevi sperato soltanto, Poi va, babbo, c'è un assassino, vuole fare bussare, babbo, c'è un indolino, vuole fare parlare, babbo, c'è un bianchino vestito di un uomo, e c'è la pelle di un vecchio serpente, appena uscita da un uomo. Poi va, gli occhi, oggi ci gridano agli occhi, e boh, che stanno a guardare, gli orecchi non vedono niente, tra babbele e il villaggio globale, tra babbele e il villaggio globale, il villaggio globale. Oggi esiste il, internet, la grande, la grande comunità virtuale, senza lui, senza barbele, senza niente, esistono ancora delle città che sono realmente un villaggio globale, dei futuri cittadini del mondo, Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam, New York, New York, New York, sono stato in New York nel 2001, ecco tutto il resto, nel 2001 siamo stati in New York, mentre io sono stato che stava finendo l'estate, un viaggio di piacere per migliorare un po' in inglese, e la classe del mio corso in inglese, la sua volta è in New York, un piccolo villaggio globale, per cui per me in quella classe c'erano due francesi, una turca, una perubiana, uno sloveno, una neozelandese e un italiano. L'italiano era un ragazzo di Colombia, vicino a Colombia, di San Lazzaro, esattamente, e si chiamava Lazzaro. Perché mi ha detto che il suo giro in croce era chiamato Lazzaro, come il nome Lazzaro, originario di San Lazzaro, che si chiamava Lazzaro, ma San Lazzaro non era così, così strano. E il mio lavoro diceva sempre a suo nipote Lazzaro, un ragazzo, ma non ci è contento di avere un bucino di nuovo? Lazzaro, un ragazzo, un ragazzo, un ragazzo, un ragazzo, un ragazzo, e si faceva chiamare, si fa chiamare, in un'altra maniera. Lazzaro, chiamami Lazzaro, come Lazzaro in un pezzano. Lazzaro mi ha raccontato la storia di Lazzaro, mi ha raccontato che cos'è l'esperanto, mi ha spiegato che cos'è l'esperanto, mi ha spiegato che cos'è anche l'omaranismo, scusate, l'omaranismo, l'omaranismo, l'omaranismo direva da l'omano, che l'esperanto significa l'umanità. E l'omaranismo è la dottrina ideale di l'antra dell'utilizzo, non per quell'idea interna necessaria, a quel foco interno necessario. È un ideale che considera l'uomo in quanto uomo, indipendentemente dall'attitudine in cui si viene trovato. È un ideale che battisce ogni forma di pratismo, ogni cosa. È un ideale che eleva la massima potenza allo spirito dell'esperanto. E' la mattina, la mattina degli undici, prima di andare a fare il nostro corso di interesse, io e Lazzaro, sono andati a fare le regolazioni insieme, in un bar, un bar. Fosse assurdo di quelli che sono gli occhi. Pavimento che cambiava coloro ogni dieci secondi. Mettevate sgargianti noi che fossimo a Las Vegas. Camerini virtuali sotto forma di colonnine, simbibili parlanti su cui prendere dei corci. In alto, sospese nel vuoto, piramidi di televisori sintonizzati sui vari cantini del mondo. E io e Lazzaro, seduti al nostro tavolino a fare il colizio. Lazzaro ha cominciato a vedere fuori delle fotografie, quelle del congresso universale di Speranto dell'anno prima, a Sifre, in Carigolino. Ma lì ce l'ha stato anche lì. Poi è tirato fuori un libro, Vitaliano Lamberti, Lighter, Good Examino, una voce per il mondo. Sì sì, una biblioteca di examino. Guarda, 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 guarda di questo esame con sua moglie. Era proprio una bellezza, trafissima. Guarda lo ha fatto, io ho fatto i congressi. Vedi, Cracodia, Washington, Ambersa, Parcellona. Scrive le persone, hai visto? mi sono fermato a spugliare da solo il libro e mi sono fermato per caso a pagina 3, 3, 4 dove c'è una cosa anche lui si piace dell'umanalismo lo sapevi? il giovane Russell poco dopo la morte di Zan mentre era in carcere in stato di impacismo scriveva nei giorni di oscuri gli uomini hanno bisogno di una fede di una speranza ben concreta e del calmo coraggio che non teme la mia quanto vediamo succedere oggi? ha dato conferma quanto noi prelevamo noi oggi vediamo che gli indirizzi politici degli uomini tanto degli uni quanto degli altri si poggiano su ideali completamente errati sono ideali completamente diversi potrebbero impedire essi continui ad essere fonti di distorsione sofferenza e peccati poi all'impegno di riso mi sono sentito a battere sulla spagna davanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti